Finora abbiamo detto che il modello trova fondamento nella visione percettiva, ma in realtà qualunque informazione giunga al cervello tramite i sensi viene anche elaborata. Nel corso dell'evoluzione abbiamo sviluppato il cervello in tempi successivi. La parte più antica, il cervello rettiliano, corrisponde al bulbo encefalico, la funzione reticolare, e al cervelletto. Questa parte era utile alla sopravvivenza all'ambiente. Il dinosauro doveva respirare, cibarsi, riprodursi, correre. Ciò vuol dire che determinate funzioni cerebrali erano attive. In pratica sono le stesse funzioni vitali che permettono anche a noi di sopravvivere. Battito cardiaco, respirazione, metabolismo e via dicendo. Utilizziamo questa parte del cervello detta rettiliano che, pur essendo una zona cerebrale molto arcaica, svolge egregiamente il suo compito. Sto eretto, cammino, il mio sangue è ossigenato, ma non perché ne sia consapevole, dato che l'area dell'attenzione è incapace di svolgere le mansioni del cervello arcaico. Tuttavia, il rettiliano mi permette di sopravvivere anche quando dormo o quando la mia coscienza non è presente. A un certo punto i primati hanno cominciato a vivere in gruppo. A livello cerebrale vivere isolati o in gruppo sono funzioni diverse. È stato quando ha cominciato ad emergere il cervello sociale. Questo cervello sociale è tipico dei mammiferi, perché indipendentemente dal fatto se ci riferiamo a un lupo o a un essere umano, in entrambi i casi esiste un'organizzazione sociale. Ciò significa che c'è una zona del cervello che processa queste informazioni, altrimenti non potrebbe esistere alcuna forma di socializzazione. Questa parte del cervello si chiama sistema limbico ed è il cosiddetto cervello emotivo. Da ciò si arguisce che le emozioni non nascono nel dinosauro, ma si sviluppano molto più tardi nel mammifero. Il sistema limbico è una parte del cervello che processa, scansiona situazioni di tipo emotivo. Ti faccio un esempio. Perché uno squalo non è ammaestrabile in un delfinario? Perché non possiede il cervello limbico. Il leone è un mammifero, per cui anche se è un predatore, il suo comportamento è adattabile alle situazioni. Lo stesso avviene con un delfino. Tutti noi siamo mammiferi, in grado di modificare situazioni biologiche in funzione dell'apprendimento. È il passaggio che ci interessa. Non è possibile addestrare uno squalo perché non possiede quella parte del cervello emotivo. Ad un certo punto, ma molto di recente, si è creata la neocorteccia. È la parte cognitiva. Un leone non può svolgere un compito di matematica. Non può svolgerlo perché gli manca l'area dell'astrazione. Se questa zona cognitiva è mancante, non è in grado di processare quelle informazioni. Le parti più evolute della neocorteccia sono i lobby frontali, l'area dell'astrazione, delle funzioni cognitive superiori, visualizzazione, libero arbitrio, potere decisionale, coscienza, consapevolezza, ecc. Se corteggi una ragazza, che tipo di funzioni stai usando? Funzioni emotive e cognitive. Se dovesse esserci l'irruzione di un leone, che cosa cambia? Continui a corteggiare la ragazza, altrimenti perdi l'occasione? Succede che l'amigdala, un particolare organo del sistema limbico collegato alla reattività, prende il sopravvento, cioè disabilita il cervello cognitivo e risponde alla minaccia dell'ambiente. In questo caso mette te e la ragazza nelle condizioni di scappare. Ciò vuol dire che questa parte del cervello emotivo è già cablata, cioè è già collegata. Saper respirare ci è utile fin dalla nascita. Saper parlare non è una necessità dalla nascita. Di conseguenza una è già cablata, l'altra è da cablare. La cablatura in realtà mi porta a dominanza. Questo perché le informazioni passano più velocemente dove sono già cablate. Arriva il leone e il cervello emotivo va a condizionare l'attività cognitiva superiore. La paura fa scattare meccanismi già cablati che vanno a condizionare le funzioni cognitive. Se io sono un ansioso, l'attività cognitiva è influenzata. Concorderai con me nel ritenere che l'attività respiratoria è più importante della funzione cognitiva. Ebbene, il sistema emotivo decide in primis. Non importa quanto può essere intelligente il tuo lobo frontale. Se sei claustrofobico e sei anche un premio Nobel, se entri in ascensore, cosa succede? Quale parte è più dominante a un certo punto? Il cervello limbico. Non ha nessuna importanza quanto tu sia intelligente e preparato. La tua fobia dell'ascensore ti porta a salire a piedi otto piani di scale. Ma per te è molto meglio questa faticosa salita piuttosto che morire soffocato quando si chiuderanno le porte dell'ascensore. Anche lo stress blocca l'attività cognitiva. La parte della neocorteccia è tutta da cablare. Ecco perché poi diciamo che usiamo il cervello in percentuale minima. Il cambiamento va costruito. Se analizziamo il cervello come una sovrapposizione di tre parti, vediamo che la formazione reticolare ha il controllo su tutto quello che c'è sopra. L'ufficio centrale è rappresentato dal sistema limbico che deve sapere tutto quello che passa per il corpo e deve accettarlo. Al secondo piano c'è il cervello neocorticale steso per aree. Mentre il cervello emotivo dei mammiferi è unico, la neocorteccia è divisa in due emisferi, destro e sinistro. C'è un'ulteriore divisione che provoca ulteriori dinamiche conflittuali. L'informazione è palleggiata destra-sinistra, sotto-sopra. L'informazione viene scansionata da ciascuna parte secondo il proprio punto di vista. Metterle insieme diventa problematico ed è questa la fase in cui entriamo in confusione. La parte del cervello che ci interessa è proprio la neocorteccia perché l'altra è già cablata. Questa invece la possiamo modificare, direi quasi educare. Il modello lo costruisci tu. Serve allora un meccanismo per poter agire sul modello e di conseguenza cambiare la tua realtà. Tutte le parti del cervello sono separate e ognuna di esse ha una sua funzione specifica. Il lobo frontale è la zona più evoluta. La neocorteccia ha a che fare con l'analisi più sofisticata delle informazioni. Quando le informazioni arrivano in quest'area però, sono già filtrate e solo una piccola parte di esse vi arriverà. In fondo è questo il motivo per il quale il modello non potrà mai essere la realtà. A quest'area arrivano circa 400 miliardi di informazioni al secondo. Chiaramente non può processarle tutte e così subentrano i filtri. Alla fine ciò che realmente arriverà è condizionato sia dai filtri sia dal modello di appartenenza. Inoltre i sistemi sensoriali sono influenzati dal modello del passato. Così quello che vedrai sarà quello che hai già visto, hai sperimentato. Ciò che vivrai sarà ciò che hai già vissuto in precedenza. Questo perché è necessario avere l'accettazione del passato di quell'area. Se non c'è l'accettazione da parte di queste aree che scansionano il passato, non può esserci cambiamento. È questo il limite. I bambini non ne sono condizionati perché non hanno passato e dunque hanno meno filtri. è un'accettazione del passato. Grazie a tutti.